Fabian Ayala è sulla direzione e grazie per venire al Open Marocco e per giocare a footgolf ma prima di tutto, molti persone ricordano te dal campo di football qual è il tuo migliore momento della tua carriera e grazie a giocare a footgolf qual è il tuo migliore momento in footgolf ora? Grazie di essere venuto in Marocco, tu sicuramente avrai avuto un momento bellissimo nel calcio qual è? e quale nel footgolf se ne ha avuto uno bello? Niente, ringrazio per la ricevuta, per i complimenti di tutti, per aver conosciuto tante persone che vedevo dall'Argentina, vedevo per Facebook, grandi giocatori è stata per me un'esperienza bellissima, la prima uscita mia dall'Argentina per giocare a questo nuovo sport sono contentissimo, spero di poter venire l'anno prossimo a altre gare e niente, nel calcio sì, è differente, Malta-Roma, ho vissuto tante cose nel calcio ma questo sport mi ha fatto impazzire e mi ha dato la voglia di allenarmi tutti i giorni per giocare meglio ok, first of all I want to say thank you to everyone all the people that came here were very nice with him and he enjoyed staying here and playing here he said it's the first time he plays footgolf outside Argentina and he had amazing moments, football is completely different but footgolf gave him the possibility to go back and train a lot to get better and better for this sport that he likes and he wants to get more tournaments in Europe next year to go better and better ok, what was your feeling after this three day tournament in Morocco you finished on the podium, it's a good start Sì, per me è una sorpresa perché sapevo che stavo giocando contro dei migliori footgolfer e era una prova, una prova per sapere il livello che ho potuto arrivare ho iniziato a giocare a giocare quindi non posso chiedere più so I said he start in January to play so coming here knowing to compete with the best European players it was a pleasure for him and it was to test itself to this level with the other players and he's very happy with the result and seeing the other player this tournament What is the future for you in footgolf? Can we see you in Europe for 2017? Spero di sì, spero di venire, di poter viaggiare, spero che la famiglia mi accompagni e niente, sono contento, Mattias mi ha aiutato moltissimo, lui ha più esperienza in questo sport quindi mi sono molto avvicinato a lui Ok, so he said definitely he's going to try and come to more tournaments in Europe hopefully the family, he can manage to come over and with the help of Mattias, he's always here and he'll probably come next year to more tournaments and compete with the best Così